Innanzitutto volevo ringraziare ovviamente Kite, la Camera degli Avvocati Immigrazioni di Settri Veneto e Melting Pot che ci ha consentito di organizzare questo convegno anche con questa modalità duplice quindi in presenza e anche online. Vi ricordo finora che la registrazione di tutto il convegno verrà poi messa a disposizione sul sito di Kite nei prossimi giorni quindi sarà il convegno si potrà rivedere in un secondo momento. Ringrazio ovviamente e in prima battuta i nostri relatori, il dottor Fabio Doro del Tribunale di Venezia, sezione specializzata che ha accettato con grandissima gentilezza e anche con grande voglia insomma di intervenire il nostro invito per discutere di questo argomento e ringrazio il collega Francesco Masò eh già membro del Consiglio Direttivo di Kite, attualmente membro del Consiglio Direttivo Nazionale di Asgi che anche lui ci ha ehm ha ha accettato il nostro invito per intervenire sull'argomento di oggi. Oggi parleremo di protezione speciale eh con un approccio dedicato alla prassi e alla giurisprudenza da da prima interverrà l'avvocato Amazon per seguire poi il dottor Doro nella prima parte si parlerà appunto del di un inquadramento più generico dell'istituto per poi lasciare il dottor Doro eh il compito di raccontarci quello che sta un po' succedendo al Tribunale di Venezia e magari anche in altri in altri fori e per porci un po' delle questioni. Ovviamente speriamo che da questo possa nascere un dibattito chiedo non so se qualcuno fa delle domande online poi c'è Lucrezia che le riporta quindi a chi ci segue da casa eh chiediamo davvero di intervenire perché confidiamo molto anche nella seconda parte di questo intervento. Per iscritto sì sì mandare le domande per iscritto poi Lucrezia che forse molti di voi conosceranno perché ci ha sempre seguito per i nostri corsi le riporterà qui al ai relatori e a chi vorrà intervenire. Eh l'importanza di questo di questa giornata direi che insomma è abbastanza evidente sotto gli occhi di tutti dal duemilaventi al dicembre duemilaventi quando decreto legge centotrenta duemilaventi poi convertito con la legge centosettantatré entrata in vigora modificando l'articolo diciannove del testo unico sull'immigrazione da quel momento lì la la il la protezione speciale permesso di soggiorno per protezione speciale sta acquisendo sempre più eh importanza e rilevanza all'interno della 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 normativa. Semplicemente guardando i dati dell'asilo della commissione nazionale sul diritto di asilo che sono andata un attimo a consultare ci accorgiamo che dal duemilaventi al duemilaventuno sono tornate a ricrescere le domande di protezione internazionale e ehm la protezione speciale nel duemilaventi ovviamente nel duemilaventi non esisteva perché è entrata in vigore nel alla fine dell'anno però nel duemilaventuno in un solo anno di eh applicazione ha già visto un dodici per cento di riconoscimenti quindi insomma il dato ci fa pensare che essendo solo all'inizio l'anno prossimo questo questa modalità di di accordare protezione ai cittadini esternieri sul nostro territorio acquisterà sempre più importanza. Sappiamo che c'è un doppio binario cioè la possibilità di vedere riconosciuta la protezione speciale nella procedura di protezione internazionale ovvero di rivolgersi al questore e ci siamo accorti tutti nella nostra attività quotidiana che eh le sfide e i dubbi che sono sorti giorno per giorno si stanno moltiplicando e mi riferisco al problema che riguarda ad esempio i ehm i cosiddetti i i casi Dublino oppure la possibilità di proporre la domanda di protezione internazionale nel momento in cui pende la protezione eh scusate la protezione speciale nel momento in cui pende la protezione internazionale le difficoltà anche banalmente connesse alla 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 possibilità fisica di presentare la domanda di protezione internazionale in questura quindi con le la possibilità presso alcune questure di prenotarsi col per il possesso di un permesso di soggiorno mentre in altre questure la possibilità questa possibilità che non c'è con un inizio che sembrava sfavillante quindi tutte le domande venivano prese sembrava che tutto andasse a grandi velocità e adesso siamo già a mio parere un po' impantanati e non si capisce bene come come ne potremmo uscire insomma le sfide le domande le le questioni sono moltissime di fronte a un istituto che concede e promette grandissime possibilità perché come poi ci dirà l'avvocato Masone la protezione speciale apre il campo a una serie di valutazioni davvero molto molto vaste molto approfondite e anche molto molto delicate che riguardano la l'inserimento lavorativo riguardano la vita familiare riguardano i legami riguardano i legami con i paesi d' origine e quindi che richiedono all'interprete sia esso il giudice sia essere la questura eh scusate la la questura per mezzo poi della commissione richiedono una ehm un' attenzione e una ehm una raffinatezza giuridica che deve essere eh con il tempo sempre più affinata quindi eh direi che non rubo altro tempo ai nostri relatori cedo la parola all'avvocato Francesco Masone che ci parlerà della protezione interna dall'umanitaria alla speciale le nuove frontiere della tutela della vita privata e familiare e poi dopo eh passeremo la parola al dottor Doro se nel caso possiamo fare una piccola pausa ma lo vediamo insomma in corso d'opera grazie ancora di essere intervenuto e buon lavoro Grazie.